Casi in diminuzione a Torre del Greco rispetto alle ultime 48 ore. Nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi casi. Le guarigioni certificate sono invece 8, su un totale di 6.548 guariti dal Covid da inizio pandemia. Cambia così il bilancio dei contagi, con 133 attualmente positivi, di cui 9 ancora ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata, invece, un solo nuovo caso nelle ultime 48 ore. A fronte di 121 tamponi processati è una nuova guarigione, su un totale di 4.420 guariti. Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate sino ad ora, il totale è di 46.679. Secondo il bollettino del 7 settembre, pubblicato dalla Regione Campania, a fronte di 14.352 tamponi, i nuovi positivi sono 311. Invece i posti letto disponibili sono 656, quelli occupati 26. Intanto, sul fronte Green Pass, fonti parlamentari comunicano che tutti i partiti della maggioranza hanno ritirato gli emendamenti al decreto legge.